Buonasera da Riccardo Zarfati, portafogli ETF di One Hour Trading, vediamo l'operatività per lunedì 20 di giugno. Lista degli ETF analizzati che seguono sia al rialzo che al ribasso tra indici e tre materie prime, per avere così un quadro completo di quello che è successo oggi sui mercati finanziari, con ovviamente anche degli spunti operativi. Quadro della giornata, vedete in assenza di dati macro rilevanti, a parte le nuove abitazioni statunitense sostanzialmente in linea delle attese, abbiamo una giornata, una chiusura di settimana piuttosto strana e anche piuttosto complicata da commentare. Venivamo da una striscia di pesanti ribassi sugli indici azionari, in particolare quelli europei, gli Stati Uniti avevano tenuto un po' meglio, la chiusura di settimana mostra, vedete subito dal tabellone, Italia più 3,49%, Germania meno di un punto percentuale di guadagno e Stati Uniti, in questo momento addirittura negativo di meno mezzo punto. Per cui che cosa è successo? Diciamo che la forza relativa degli indici europei in generale può essere espressa con il fatto, si è parlato ieri dell'assassinio della deputata inglese, che potrebbe in qualche modo favorire da un punto di vista, se non altro motivo, lo stare dell'Inghilterra, della Gran Bretagna all'interno dell'Unione Europea, chiaramente la forza, questo enorme rimbalzo dell'Italia, 3,5% probabilmente quando si sale si fanno i rimbalzi e questo lo sappiamo generalmente, gli asset prima fortemente penalizzati, più fortemente penalizzati, in genere rimbalzano un po' di più, per cui oggi ci sono state chiaramente le banche altraino fortemente acquistate, se durerà è difficile da dire, è chiaro che comunque il referendum inglese, che ricordo è giovedì prossimo, ormai mancano 3 o 4 giornate di negoziazione, è alle porte, per cui credo che continueremo a vedere ancora molta volatilità e oggi credo sia solo un assaggio. Comunque oro in ritracciamento meno 0,60%, petrolio più 2,87%, si è praticamente ristabilita la correlazione diretta tra borse e petrolio, corne più 2,12, euro-dollaro rimbalzo dopo l'affondo di ieri, più 0,32%, 1,12,60. Bene, quindi andiamo a vedere le candele, la situazione grafica rimane in generale ribassista, iniziamo dall'indice italiano che è da questo 3,33%, vedete le TFMIB e forma una candela verde. Ci sono ancora delle code per cui a mio avviso questa non è sufficiente per decretare la fine del trend ribassista che è ancora a mio avviso in essere sul indice italiano e vedete i prezzi hanno praticamente raggiunto l'area della resistenza principale di questo movimento. Vedete questo supporto precedentemente lo sto a ribasso, praticamente si è ritornati in prossimità di quei valori. Chiaro è difficile dire, a mio avviso qua si può tentare di mantenere la posizione, ovviamente mettendo degli stop piuttosto stretti, andiamo a vedere come sta messo lo short italiano per coloro dovessero essere in posizione a ribasso sul nostro indice, eccolo qua, che oggi ha perso naturalmente il 3,29%, metterei uno stop, lascerei un po' di spazio, volendo provare a mantenere la posizione perché dopo una giornata così qualche estensione lunedì ci potrebbe anche stare. Ovviamente se più di un'estensione si va ancora più giù naturalmente si potrà uscire in stop avendo comunque guadagnato qualche cosa per chi avesse colto la operatività fin dall'inizio. Quindi stop in area 26 e 28 circa per questo strumento per cui si lascia un po' di spazio ancora a scendere eventualmente prima di valutarne la chiusura. Tornando sull'indice italiano perché ho i miei dubbi perché chiaramente in fasi anche profondamente ribassiste candele di questo tipo ci possono stare, ne abbiamo proprio su questo grafico un esempio, vedete questo ciclo ribassista parecchio forte perché si passò da 21,5 fin a 17,5 per cui un profondo ribasso, vedete, a metà del percorso aveva fatto una candela che possiamo assimilare graficamente più o meno a quella di oggi. Non sto dicendo che da quasi ci sarà sicuramente un'altra gamba ribassista, però chiaramente difficile sempre dirlo, ma al momento manterrei, proverei a mantenere questa posizione short. Sugli altri due indici ci sono un po' meno dubbi perché le candele sono un po' più stentate, sono un po' più timide se volete, questa è quella del DAX, vedete, è una piccola candela di stabilizzazione che minimamente pone il dubbio che il ciclo ribassista delle Akinashi sia ancora in essere. Ancora meno sullo standard neppure che oggi chiude piatto lo strumento USA, l'indice adesso è in piccolo negativo, abbiamo visto di circa mezzo punto e forma una candela verde simma di stabilizzazione con diverse code. Per cui, a mio avviso, in generale, posizioni short sul mercato che possono essere tenute, passando alle materie prime, meno 1,60 per lo strumento. Qua c'è una prima candela rossa di stabilizzazione dai per comprato, dopo che si sono fatti nuovi massimi, la chiusura poi è stata un po' sotto, anche per il sottostante, sotto quota 1,300 e oggi si è rimasto sotto quota 1,300, per cui questo per me è un segnale che è assolutamente non short, per lo meno per il momento, ma comunque di presa profitto sul gold. Dico questo perché non è assolutamente detto che in caso di profondi ribassi la prossima settimana, pensiamo all'eventualità, ad esempio, tanto per citarne una, di uscita di Brexit, chiaramente non è assolutamente detto che l'oro possa andare al rialzo. È possibile che quando si vendono asset finanziari, diciamo in panic selling, va via un po' di tutto, per cui potrebbe andare via anche l'oro. Per il momento comunque senza fare, diciamo, scenari che sono sicuramente prematuri, candela rossa ipercomprato decisamente sull'oro, per cui presa profitto al momento e poi si aspetta un qualche nuovo segnale. Sul corn, oggi 1,19, di nuovo una candela verde, qua c'è un pattern di stabilizzazione non chiaro, vedete un'alternanza di verde e di rosse, verde e rossa, di nuovo verde, per il momento si rimane sotto queste resistenze. Ieri avevo suggerito di prendere profitto su questa posizione, c'è stato un ottimo trend rialzista, siamo in doppio per comprato, può essere che ce ne sia ancora un altro, ma comunque in questo momento con questo pattern è bene prendere profitto e attendere anche in questo caso nuovi segnali. Sul petrolio oggi 1,67, probabilmente vedremo qualche candela verde se rimarrà oltre il 2% che sta facendo in questo momento, dal punto di vista di Echinashi sembra si è chiaramente attutita la forza ribassista di brevissimo su questo strumento, ma c'è ancora una candela rossa, ma vedete comunque la media mobile al momento sta tenendo, sta tenendo anche egregiamente, per cui è possibile che da questo livello ci possa essere qualche segnale. Anche perché nel frattempo gli oscillatori sono quasi ritornati in zona di per venduto, per cui come detto ieri da questi livelli o da poco sotto, qua c'è un supporto statico particolarmente rilevante in area 2,61, oggi chiusura 2,73, un qualche segnale rialzista potrebbe essere seriamente valutato. Bene, questo è tutto, per cui dal punto di vista del riepilogo andiamo subito a vederlo, le trend prevalenti di breve sugli indici e sulle materie prime monitorate, per cui rimane ancora un ribasso sugli indici e sul petrolio, vedremo se il rimbalzo di oggi sarà confermato nell'inizio della prossima settimana, ben tenendo a mente naturalmente il referendum di giovedì. Neutralità su ore e corne che stanno stabilizzando in un'area di ipercomprato è possibile da questi livelli, è bene prendere profitto e poi aspettare eventuali nuovi segnali dopo magari qualche giornata di stabilizzazione. Bene, questo è tutto, like, l'invito a mettere un like, pollice alzato se vi piace questa videoanalisi giornaliera e naturalmente l'invito a visitare il sito onehourtrading.it. La registrazione è gratuita, c'è possibilità di sottoscrivere un abbonamento che permette di costruire naturalmente un portafoglio fatto esclusivamente di ETF e che può contenere fino a 10 strumenti contemporaneamente. Bene, questo è tutto, vi auguro naturalmente un buon fine di settimana, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo lunedì per un nuovo appuntamento. A presto!